Musica Torna a riunirsi dopo la pausa di agosto il Consiglio regionale qui a Firenze vediamo in regionando gli argomenti principali di cui si sono occupati i consiglieri La seduta comincia con un minuto di silenzio per ricordare le otto vittime della tragica alluvione di Livorno era proprio il 10 settembre di sette anni fa e purtroppo quella non è stata l'ultima tragedia di questo tipo nella nostra regione a novembre dell'anno scorso infatti piogge violentissime si sono abbattute su gran parte della Toscana e alla fine si sono concentrate nella grande piana tra Firenze, Prato e Pistoia anche in questo caso furono otto i morti e i danni sono stati ingentissimi ancora non riparati in gran parte per far luce su quanto è accaduto ma soprattutto per evitare che fatti così si ripetano ha cominciato il suo lavoro una nuova commissione di inchiesta del Consiglio regionale ne parleremo Quelle di martedì 10 e mercoledì 11 sono state le prime sedute del mese di settembre in attesa che vengano affrontati grandi temi del dibattito politico di queste settimane come il documento di economia e finanza, la variazione di bilancio, la gestione della FIPD, il piano dei rifiuti l'assemblea lavora su ambiente, parchi, foreste, sanità, turismo e molto altro ancora comunicazione e giornalismo ci sono diverse iniziative che trovano spazio qui in particolare restano ancora aperti per tutto il mese di settembre due bandi del Corecom il comitato per le comunicazioni, uno per associazioni denti per la comunicazione sociale si intitola La Toscana che fa bene e un altro per i videomaker per sensibilizzare contro le truffe telefoniche presentato anche il premio giornalistico di Fogliano della Chiana ci sono spunti molto interessanti Il 10 settembre, la data della seduta del Consiglio regionale, è un giorno triste è l'anniversario, il settimo, della tragica alluvione di Livorno ci furono otto vittime, la seduta comincia con un minuto di silenzio grazie Quello che è successo a Livorno il 10 settembre 2017 ha lasciato una ferita profonda non solo nella comunità livornese ma in tutta la comunità toscana. Oggi ho deciso di ricordare quelle vittime prendendo anche l'impegno e la necessità di tutti di investire di più in prevenzione perché quello che è accaduto non sarebbe mai dovuto accadere, non dovrà mai più accadere e purtroppo abbiamo visto anche quello che è accaduto non molto tempo fa nella piana fiorentina. Vite spezzate e la necessità da parte di tutti di investire di più sulla prevenzione. Molti consiglieri soprattutto delle zone che furono più colpite ricordano quell'alluvione, li abbiamo sentiti nei nostri telegiornali, li riascoltiamo adesso. Ci spinge ovviamente anche a riflessioni che guardano non soltanto agli aspetti numerici. Quando parliamo di queste vicende spesso e volentieri magari con il passare del tempo ci si limita da parte di qualcuno anche aspetti meramente contabili. Chi come noi ha vissuto sulla propria pelle quella come altre tragedie sicuramente sa che quegli eventi poi rappresentano ferite aperte e soprattutto sono dei lutti che hanno toccato sul vivo intere comunità. Oggi è doveroso commemorare le vittime e esprimere vicinanza ancora una volta alle famiglie, alle persone vicine a quelle vittime perché non dobbiamo mai tenere basso anche il profilo. Da un lato quello giudiziario dove la magistratura sta facendo il suo corso, c'è un processo che sta andando avanti e che già ha avuto delle condanne, dall'altro chiaramente dal punto di vista politico c'è una pianificazione urbanistica e lo abbiamo visto anche in questi giorni con le bombe d'acqua che si sono riversate anche sulla nostra regione, non dobbiamo assolutamente tenere bassa la guardia. Il nostro pensiero va ancora con cordoglio e con dolore alle vittime, alle loro famiglie, loro come a quelle delle molte e a troppe disgrazie che sono accadute nel nostro territorio per una gestione probabilmente anche del nostro territorio che non è stata quella che la migliore che potesse esserci. Ecco, quello che possiamo fare oggi per la memoria di queste persone è cercare di impegnarci al massimo perché episodi del genere non avvengano più. E credo che l'impegno debba essere costantemente portato avanti all'interno anche del Consiglio regionale come anche del Governo nazionale che proprio in questo momento, in questi giorni sta facendo dei tagli enormi per tutto quello che riguarda la prevenzione del distesto idrogeologico. Il giorno prima si era riunita anche la commissione di inchiesta sull'evento alluvionale invece del 2-3 novembre 2023. Anche in quel caso purtroppo ci furono otto vittime e ne nacque una polemica politica per la gestione del territorio e per la gestione stessa dell'emergenza. Adesso però tra le forze politiche che partecipano a questa commissione c'è una condivisione di intenti che si riscontra anche nelle parole di presidente e vicepresidenti. I primi confronti in commissione avvertono però soprattutto sulla grande questione delle risorse disponibili dopo l'alluvione di novembre. I nostri approfondimenti avranno ad oggetto naturalmente quello che è stato fatto, quello che è stato programmato, quello che non è stato realizzato. Anche perché contrariamente a quella che è la narrazione ormai troppo frequente, mi permetto di dire, rispetto a un'alimentela continua verso un governo che comunque risorse ne ha messe sul campo e che governa da solo due anni e che è chiamato in causa di fronte a decenni, permettetemi anche di mancata programmazione, mancata realizzazione di interventi. Oggi addirittura molte colpe vengono scaricate sui comuni per quanto riguarda la rete fognaria quando sappiamo bene che questo è un onere che spetta ai gestori dei servizi. Ecco, questo scaricabarile onestamente credo debba trovare uno stop, una fine e da una parte sicuramente l'attività della Commissione dovrà necessariamente aiutare a chiarire anche quelli che sono i costi, quelli che sono il famoso miliardo chiesto al governo Meloni per ricostruire la Toscana. Noi non ci sottraiamo a questo, semplicemente vogliamo capire esattamente dove questi soldi sono stati spesi a fronte di risorse che in Toscana sono comunque già arrivate. Il 9 settembre, come era previsto, la Commissione ha ascoltato il Presidente e il Commissario Gianni e l'Assessora alla Protezione Civile Monni ed è emersa ancora la questione della disponibilità delle risorse. Su questo le differenze ci sono state come sentiamo? Il clima è quello della massima disponibilità e si fa sempre più largo da parte nostra come maggioranza la convinzione che questa Commissione davvero possa essere lo strumento migliore anche per richiamare tutti a partire dal governo a fare il proprio dovere perché mancano ancora molti finanziamenti e quindi sicuramente il lavoro che porteremo avanti in seno la Commissione servirà anche a evidenziare questo aspetto e a rilanciare questa richiesta nei confronti del Governo nazionale. Beh, la Commissione è iniziata in modo positivo, ben organizzata dalla Presidente Tozzi però al contempo ho ricordato al Presidente Gianni che il suo ruolo di commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico che lui ha in virtù di una precisa legge voluta nel 2014 dall'allora governo Renzi e in qualche modo, come dire, gli consegna una responsabilità sugli eventi, una responsabilità di ordine politico sugli eventi accaduti anche perché dal governo sin dal 2010 la Regione Toscana ha ricevuto ingenti risorse per intervenire sui territori più fragili per prevenire ovviamente situazioni come quelle che invece sono occorse. della Commissione non fanno parte per la loro scelta iniziale le consigliere del Movimento 5 Stelle come valutano adesso l'avvio dei lavori? Sentiamo la capogruppo. Temiamo che questa Commissione in realtà più che fare luce possa diventare un oggetto di scontro politico tra il Partito Democratico e le destre e non è questo l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Per noi sarà importante seguire e seguiremo questa Commissione innanzitutto per cercare di capire quali sono le ragioni che hanno scatenato questo evento, anche se in gran parte le conosciamo e sono legate alla mancanza di prevenzione e all'eccessivo consumo del suolo che è stato fatto anche in queste aree, ma soprattutto per cercare di capire anche come evitare altri fenomeni come questo. Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni di nuovo in Toscana ci fa capire che il nostro territorio è fragile, estremamente fragile. E queste Commissioni, gli esperti che vi parleranno al suo interno, possono aiutarci a capire quali sono le precauzioni e le misure da prendere come amministrazione per cercare di fare in modo che si possa perlomeno mitigare quei danni che probabilmente, visto il cambiamento climatico in corso, saranno inevitabili ancora per molto tempo. Nel frattempo, a proposito di previsioni e prevenzione, è stato approvato anche il bilancio del Consorzio Lama. Sul ruolo della Commissione interviene poi il Presidente Mazzeo. E noi abbiamo la necessità di capire cos'è successo anche, per questo è il motivo di quella Commissione, ma non basta solo capire, bisogna conoscere, capire, apprendere per poi mettere in campo azioni, perché questo è il compito della politica, per fare in modo che non accada più. In attesa di affrontare anche gli argomenti di cui si è discusso moltissimo nel dibattito pubblico politico in Toscana in questa estate, accadrà questa discussione, ci sarà nelle prossime settimane. Il Consiglio regionale naturalmente si è occupato di molte cose, vediamo in sintesi le principali. Partiamo dal nuovo piano forestale di cui dà un'informativa. Qui la Vice Presidente è Assessora all'Agricoltura, è un parrimonio enorme, la gestione dei boschi riguarda quasi il 50% della superficie regionale, più di un milione di ettari. Sostenibilità, competitività delle imprese forestali, vivibilità dei territori, qualificazione del personale, sono questi alcuni punti che mette in evidenza Saccardi, che poi spiega anche come le risorse disponibili ammontino a circa 100 milioni. Ne parleremo meglio venerdì prossimo, ascolteremo anche i consiglieri. Adesso ci concentriamo sulla sanità e su una questione che riguarda i fisioterapisti che potrebbero essere penalizzati dalle nuove norme. Perché? Lo spiega il Presidente della Terza Commissione. In Toscana da 20 anni funziona in maniera tale, per quelle più grave ci vuole la visita fisiatrica, ma per i casi più semplici, che sono la maggioranza, il medico attiva il percorso di fisioterapia. Dopodiché è il fisioterapista che nell'ambito di un pacchetto di prestazioni sceglie e decide sulla base di una valutazione funzionale qual è la prestazione specifica da fare ad ogni singola persona. Con la modifica del nomenclatore tariffario c'è una formulazione per la quale si richiederebbe sempre, se passa a questa maniera e se non viene modificato, una visita fisiatrica. Quindi ogni cittadino non potrebbe più accedere direttamente alla prestazione di fisioterapia, ma prima dovrebbe avere una prescrizione per una visita fisiatrica, dopo il fisiatra prescrive la singola prestazione di fisioterapia che viene passata al fisioterapista. Quindi da una parte c'è una mortificazione di una professione che è quella dei fisioterapisti, dall'altra per i cittadini ci sarebbe una grande complicazione. Contro la disciplina del nuovo nomenclatore nazionale, che dunque potrebbe far arretrare in qualche modo la posizione dei fisioterapisti, si schiera unanimemente tutto il consiglio. È ovvio che, proprio perché la sanità in qualche modo è deficitaria di operatori del settore, è bene che chi ha delle valenze in determinati settori possa esplicitarne le proprie competenze. Voglio dire, io sono un medico, io sarei abilitato a operare a cuore aperto, ma non mi ci metto nemmeno, ovviamente. Per questo il medico deve poter demandare a specialisti di settore, quindi di nicchia, quelle competenze che invece potrebbero essere arrogate a lui, ma che non è giusto che sia così. Ma un atto di buonsenso che dà una risposta iniziale a quello che i fisioterapisti chiedono, la loro professionalità, la loro capacità di distinguere, anche la capacità di intervento a seguito di una prescrizione medica, è ormai un dato riconosciuto, cioè un livello di professionalità, di conoscenza delle proprie attività che va valorizzata. Quindi è evidente che chiediamo anche rispetto alle nuove attività di nomenclatura avvenuta a livello nazionale di rivedere il tutto, di non essere subalterni esclusivamente a delle prescrizioni, ma di lasciare dei campi di autonomia rispetto al livello di gravità, per capirsi rispetto agli interventi che vengono fatti. Si innesta la polemica anche sulla sostituzione di un membro del Comitato di Indirizzo e di Controllo dell'Agenzia Regionale di Sanità. Questa polemica non riguarda tanto il nome del sostituto, ma... La situazione di Ars è una situazione grottesca. Il 70% del bilancio regionale viene speso in Sanità. La Sanità ha un'agenzia di riferimento che dovrebbe dirci come meglio spendere i soldi dei toscani. Questa agenzia si chiama appunto Ars, che è sottoposta per legge al controllo di un comitato. Questo comitato non si è mai perfezionato, non è mai stato costituito in maniera perfetta perché il Presidente del Comitato di Vigilanza e Controllo di Ars deve essere nominato dal Presidente Gianni, il quale non ha mai pensato di fare quella nomina. Quindi noi abbiamo un'agenzia regionale che non ha il Comitato di Vigilanza e Controllo come previsto dalla legge perché il Presidente Gianni non l'ha mai nominato. La nomina passa in ogni caso. Ne parla ancora il Presidente della Commissione. Quei dubbi espressi dall'opposizione, in particolar modo il fatto che non sia stato ancora nominato il Presidente del Comitato di Indirizzo e le funzioni che svolge il Vicepresidente è stato oggetto di una richiesta specifica della Commissione agli uffici legislativi del Consiglio e della Giunta che hanno chiarito come, al di là dell'opportunità politica della nomina del Presidente, però ciò non inficia minimamente le funzioni del Comitato di Indirizzo che tra l'altro è un Comitato di Indirizzo scientifico e non guarda la regolarità amministrativa dell'Agenzia che ovviamente è controllata dal Direttore, dal Collegio di Revisore, insomma come tutte le agenzie. Diversi sono i bilanci che vengono approvati nelle ultime sedute. Intanto quello di Toscana Promozione Turistica, l'Agenzia che, leggiamo, poggia sugli ambiti territoriali, cioè sui 28 contesti territoriali e sui prodotti turistici omogenei, cioè quelli tematici, in particolare il termale e i cammini. Il valore della produzione ammonta adesso a quasi 11 milioni e conta l'Agenzia 22 dipendenti. Ha approvato anche il bilancio di arti, un'altra agenzia, quella per l'impiego, aumenta del 9% il valore della produzione. Il personale è di 970 reunità. Ok ai nuovi budget economici per il triennio 2024-2026 dei parchi delle Apuane di San Rossore e Massaciuccoli. Su quest'ultimo in particolare ascoltiamo due interviste, una di maggioranza e una di opposizione. Il budget intanto ci segnala una realtà del parco che dal punto di vista amministrativo e contabile ha rimesso le cose a posto. È una realtà viva, dinamica, quella del parco. La gestione affidata al Presidente Banni ha sicuramente dato una svolta anche rispetto a situazioni degli anni precedenti che avevano scontato alcune impasse. Il bilancio del parco è un bilancio che quota circa 5 milioni di euro, di cui 2 milioni e mezzo sono frutto di contributi che vengono dalla regione e da altri enti, ma gli altri 2 milioni e mezzo sono frutto delle attività del parco. Quindi questo è testimonianza di un parco che appunto si è organizzato, si è attrezzato per avere anche proventi proprie. Nel bilancio della regione ci dovrebbe essere scritto più euro. Per noi diventa un costo. Questo perché abbiamo una mentalità sbagliata su come ci si approccia al parco. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare dentro, in particolar modo, la tenuta immenso, abbandonato, in buona parte di ruto fatiscente che non viene utilizzato, che potrebbe creare ricchezze posti di lavoro e che invece crea un problema, un danno, perché oltretutto diventa un elemento di inquinamento perché sta crollando e vi dico una notizia, se crolla un tetto, se crolla un muro, se crolla un palazzo non è che poi calcinacce evaporano, rimangono lì e diventano un fattore inquinante. Abbiamo la spiaggia di San Rossore, Bocca d'Arno, Bocca di Serchio che potrebbe essere gestita come tutte le aree marine protette d'Italia ed Europa, con dei campi boi attrezzati dove si paga una quota anno, mensile, giornaliera per poterci andare invece che è lasciato in abbandono. C'è un sì unanime dei consiglieri invece sulle nuove norme sulla sanità delle piante e sulla disciplina delle misure di protezione contro gli organismi nocivi, è un adeguamento per l'appunto condiviso alle nuove norme nazionali, a maggioranza viene approvato anche il bilancio di ARPAT. Ci sono due bandi ancora aperti fino a fine mese del core come il comitato regionale per le comunicazioni della Toscana che possono interessare i nostri spettatori, ne parliamo qui e spieghiamo bene chi può partecipare. Uno appunto è la Toscana e-spot che è quella legata a fare dei video di massimo 60 secondi rivolte ai residenti in Toscana a partire dai giovani della Toscana e quest'anno il tema è quello delle truffe telefoniche, delle truffe telematiche e il titolo è appunto non abbocchiamo. L'altro bando importante che facciamo in collaborazione con il CESVOT e con la regione toscana invece è quella la Toscana che fa bene e si rivolge a tutto quello straordinario patrimonio di mondo che è il volontariato, l'associazionismo, il no profit e non solo e si rivolge a premiare le migliori campagne di valore sociale, di interesse pubblico per cui è in qualche modo un riconoscimento e una valorizzazione di tutto quel lavoro importante che viene fatto e qui possono partecipare sia gli enti no profit sia le istituzioni e i privati cittadini. A un lato la comunicazione sociale e l'importanza dei riveste per tante cittadine e tanti cittadini un'iniziativa che portiamo avanti insieme al CESVOT ormai da diversi anni e che dà il senso anche di un punto di vista differente come regione vogliamo avere e poi l'altra iniziativa altrettanto importante che è un modo per sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulle truffe che spesso avvengono attraverso i canali informatici, attraverso iniziative come queste noi vogliamo dare il nostro contributo per avere una società ancora migliore e per dare ai cittadini tanti strumenti per accorgersi purtroppo come dire che le truffe sono tante e avvengono anche in maniera molto semplice, quasi inosservata. Alla presentazione del bando la Toscana che fa bene giunto alla terza edizione interviene il presidente del CESVOT, il centro servizi del volontariato. Partecipare insieme a Corecom a questo concorso che ormai è la terza edizione, le altre edizioni sono stati premiati delle cortometraggi molto belli, il primo mi ricordo le riunioni i ciechi di Prato, l'anno scorso dell'Avis, quindi speriamo che il terzo settore anche quest'anno possa partecipare a questa campagna perché penso davvero che ce ne sia bisogno perché la comunicazione sociale non è un marketing commerciale ma si rivolge proprio a cittadini per invitarli a degli stili di vita diversi e quindi per cambiare in qualche modo la nostra società. E stiamo in qualche modo in tema parlando del premio giornalistico Città di Fogliano della Chiana. Ci candidiamo come comune per un importante evento a livello nazionale oramai, devo ringraziare quest'anno in particolare l'Ordine dei giornalisti della Toscana, il Corecom, la Regione Toscana perché ci hanno dato davvero un grande aiuto sia nel trovare poi gli importanti giornalisti che saranno a Fogliano sia anche per aver organizzato un evento che sarà poi lo spunto per parlare di quelli che sono i nuovi metodi poi di informazione dall'intelligenza artificiale quali possono essere sia i problemi sia i vantaggi, dalle fake news, un nuovo modo di fare giornalismo, insomma i nuovi anche metodi per approcciarsi al giornalismo e alle varie strutture di comunicazione. Tutto questo lo facciamo anche in ricordo a due nostri storici giornalisti che sono Sbardellate e Nottolini che sono giornalisti locali ma che come tanti giornalisti locali poi hanno sempre raccontato il nostro paese, la nostra provincia e tutta l'Italia con il loro modo garbato e alla vecchia maniera. Ci sono i consigliari di Arezzo e oltre al presidente del Corecom c'è il presidente dell'ordine dei giornalisti della Toscana. Servono davvero questi premi giornalistici? Sì servono perché sono delle occasioni importanti al di là della consegna dei premi a dei colleghi straordinari servono perché sono occasioni per fare delle riflessioni sulla nostra professione, per capire qual è la direzione da prendere anche se le nostre regole deontologiche sono ben precise e danno la giusta rotta. Servono per confrontarsi, per capire qual è il nostro ruolo. Prima sentivo giustamente il collega Ceccarelli che parlava di social e quant'altro. Sapete perfettamente quello che penso io dei social. Finché i social non saranno riconducibili a un'identità vera ci sarà sempre il problema delle fake news, dell'odio seriale ed è un problema che stiamo affrontando proprio in questi giorni. I premiati quest'anno saranno Luisella Costamagna, Antonino Monteleone, Alessia Tarquinio, Guido Vacciagua, Agnese Pini, Francesco Cancellato e due giornalisti locali. Proprio per l'importanza delle informazioni del territorio sono Claudio Zeni e Francesca Muzzi. è in scadenza anche il bando del Consiglio regionale per le migliori tesi di laurea magistrali dedicate all'Europa e in memoria di Davide Sassoli. Noi oggi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo 20 settembre, sempre dopo il Tg della Sera alle 21.10. Noi oggi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo 20 settembre,